Dopo latino passiamo subito a greco e 260 esercizio 14 frase 3 soggetto il bambino complemento oggetto la bambina verbo pugnazzo Ok andiamo a cercarlo sul dizionario andiamo a cercare il verbo pugnazzo E andiamo che la prima frase l'ho risolta e andiamo che mi è venuta quanto è passato a due ore Basta con greco non mi viene proprio la versione oggi passiamo a latino Vabbè dai c'è anche altro da greco latino non è venuta la versione non succede niente Andiamo dopo tre ore l'ho finita sta versione sai c'è anche latino Ho finito anche latino e ora cosa che c'è da fare qualcosa di più semplice immagino Matematica Di Atena ad una mila sapienza per risolvere questa versione Ma va là ma cosa dici che è fattibilissimo dai va là Belle le lettere alfabeto greco molto belle ma L'omega Ma va là ma cosa dici che è fattibil Ma va là ma cosa dici che è fattibil La mia voce è vera mentre è fattibilizzere a